La fabbrica della musica, perché le scaffalature possono amplificare le vibrazioni in un contenitore dove ogni giorno si suonano le note della crescita e dello sviluppo. Il Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e Bat diventa protagonista del Karl Orff Music Festival, il festival della grande musica classica aggiunto alla settima edizione che fino all'8 settembre raccoglierà a Putignano artisti di fama internazionale. Per l'edizione 2013 il Club e i direttori del festival Vito Amatulli e Michael Flaxman hanno voluto una presentazione d'eccezione. Una serata in una location davvero speciale, l'azienda ICAM, produttore di sistemi di archiviazione e di immagazzinamento automatico, che ha ospitato la farm del Karl Orff sulle note di maestri come José Gagliardo, Jaffer Jafferi, Victor Cesto, Falei, Elena Ocic. È un evento diciamo un po' informale perché noi non facciamo assolutamente eventi musicali, però la passione e la voglia di fare qualcosa anche di diverso rispetto al nostro mestiere quotidiano ci porta ad essere pronti e disponibili a fare anche iniziative ed eventi di questo genere. Fondamentale è la collaborazione del Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT, che raccoglie 14 aziende di diversi settori e dimensioni con una sola mission ideale, finanziare e realizzare progetti culturali collettivi che rafforzino il legame tra imprese e territorio. Il club nato nel 2004 vede impegnate oggi in prima linea aziende come l'Amgas S.p.A., la Base Protection, la Carucci e Chiurazzi, la Divella, l'Exprivia, la Pharma Labor, Giuseppe la Terze Fili, Masmec, Villa Romanazzi, Publiange, Tecno Acciai, Terzan Puglia e la sezione terziario innovativo e comunicazione di Confindustria Bari e BAT. In un momento più difficile come questo, perché un'impresa dovrebbe in qualche modo spendersi per il territorio così? Perché questi sono i momenti proprio migliori per investire nella cultura. Se investiamo nella cultura possiamo avere un futuro. Se le imprese si chiudono in se stesse, si chiudono nella loro quotidianità, senza guardare allo sviluppo del territorio, allo sviluppo della cultura, alla collaborazione con la scuola, col mondo della cultura in generale, ci chiudiamo in noi stessi e non riusciremo mai a superare la crisi. Grazie a tutti.